Il presente regolamento, regola l'abuso, l'obbligo e l'uso del precario. È fatto obbligo rispettarlo, ma soprattutto farsi rispettare. Articolo 1. Il precario non ha ragione. Articolo 2. Il precario non ha mai ragione. Articolo 3. Nella improbabile ipotesi che il precario avesse ragione, entreranno immediatamente in vigore gli articoli 1 e 2. Articolo 4. Il precario non risponde ai quesiti, ma rebecca. Articolo 5. Il precario non controlla il carico, ma semplicemente dorme sul rendiconto. Articolo 6. Il precario fa il ganassa al gancio, ma purtroppo non è abile altrettanto al loro meggio. Articolo 7. Il precario vince sempre, prima o poi porterà il viaggiatore alla meta, per non parlare della merce. Articolo 8. Al precario una volta data la pinza in mano, non lo fermi più. Articolo 9. Il precario sogna, ma a volte c'è. Articolo 10. Il precario è solo leone alla sera, l'effetto gli arriva quasi sempre dopo l'ormeggio e quando si trova sul pontile pronto ad andare a casa. Articolo 11. Il precario parla spesso alle pontiliste, anch'esse al 90% precarie. Articolo 12. Il precario è invincibile, supera ogni ostacolo facendo ricorso alla pagina che sa in più del libro. Articolo 13. Il precario pulisce, solo che non vede mai dov'è sporco. Articolo 14. Il precario quando ha un problema lo risolve pensando, il fatto sta, che il suo problema è, pensare. Articolo 15. Il precario non è scelto, ma semplicemente sorteggiato come una patatina dal suo sacchetto. Articolo 16. Il precario difficilmente erra, quando ciò accade, poverino, lui non lo sapeva. Articolo 17. La disgrazia, no il precario. Articolo 18. Il precario ha in riservo molte sorprese e assi nella mamica, ma mi domando perché non si limita a fare il suo. Articolo 19. Il precario corre bene verso la strada che porta alla griglia, ma un po' meno corre, verso la strada che porta al ritorno. Articolo 19. Il precario quando è in difficoltà ti chiede aiuto, ma solo dopo 5 minuti ha già scordato tutto e non ha imparato la lezione. Articolo 19. Il precario a bordo è serio, come quando gioca al sudoku o fa cruciverba in sala. Articolo 19. Al precario le cose bisogna dirle più volte per farle fare, per poi non sperare di ottenere un buon risultato. Articolo 19. Ultimamente, qualche precario ha persino imparato a tuffarsi dalla nave. Articolo 19. Potremmo andare avanti all'infinito, ma diventerebbe tutto noioso. Articolo 19. Spero solo, che in un futuro, non lontano, abbiano anche loro un precario a carico, così che il presente regolamento possa essere tramandato. Articolo 19. Outmin Ric, Riccione N87 accisa come IRPIA,2 bis barra rovescia P. P come precario. Articolo 19. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.